Salve a tutti amici di CDKIT, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel nostro nuovo video della settimana dedicata alle nuove uscite di questi prossimi giorni. Oggi parleremo di tre giochi davvero molto particolari, diversi, uni dagli altri, ma soprattutto sono sicura che almeno uno di questi lo stavate attendendo con grande ansia. Quindi rimanete insieme a me in questo fantastico video e scopriamo e parliamo insieme di queste tre prossime uscite. Il primo gioco in cui parleremo è il secondo capitolo di A Plague Tale, Requiem appunto. Il secondo è Uncharted Legacy of Thieves Collection e l'ultimo ma non meno importante è Gotham Knights. Quindi rimanete insieme a me e parliamo ad uno ad uno dei vari giochi e quando usciranno. Il primo gioco è il secondo capitolo di una grande serie che ho visto che un sacco di persone hanno molto apprezzato ed è stato regalato il primo capitolo gratis per un po' di tempo anche su Epic Games. Quindi adesso che avete giocato il primo è il momento di giocare anche il secondo, cioè A Plague Tale, Requiem che uscirà il 18 ottobre per PlayStation, Xbox e PC. Quindi mi raccomando approfittatene anche perché adesso è già scontato del 34%, quindi non perdetevi questa grande promozione, tenete d'occhio la data di uscita e magari preordinatelo dal nostro sito così avrete questo fantastico sconto e lo pagherete anche un po' di meno. Quindi mi raccomando. Il secondo gioco invece so che potrebbe magari interessare a molte persone, soprattutto magari a chi ha la PlayStation 5 o comunque un PC. Ma stiamo parlando proprio di Uncharted Legacy of Thieves Collection. È una collection molto particolare perché comprende Uncharted 4, A Thieves End e anche Uncharted Lost Legacy, tutte e due rimasterizzate, principalmente per PS5 e PC. Quindi se dovete approfittare, fatelo adesso perché uscirà il 19 ottobre e anche qui è scontato del 36%. Quindi approfittate da adesso, preordinate adesso la chiave di gioco, così potete approfittare di questo grande sconto e pagarlo, quindi un pochino di meno. Il terzo gioco di cui parleremo è un altro gioco che ha fatto molto parlare alla community e molte persone sono anche curiose di provarlo e stiamo proprio parlando di Gotham Knights, che è un gioco molto particolare che tratterrà forse un po' meno Batman, ma molto di più tutti gli altri personaggi che ruotano attorno a lui, che siano buoni o cattivi. Quindi mi raccomando, approfittate perché sarà disponibile per Xbox, PlayStation e PC e anche qui è scontato del 29%, quindi preordinatelo per avere un grande sconto. E mi raccomando, provatelo e giocatelo perché è un signor gioco, uscirà il 21 ottobre, non perdetelo, segnatevi la data di uscita perché davvero merita tantissimo. Noi invece con questo ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi, ma vi ricordo di salvare tra i preferiti il nostro sito, il nostro compratore di prezzi, per sapere i prezzi più bassi per videogiochi, abbonamenti, gift card e tanto altro. E non dimenticatevi di entrare in nostro server di Discord per partecipare a tanti fantastici giveaway. E non dimenticatevi anche le prossime uscite di questi prossimi giorni. E noi invece ci vediamo a un prossimo video. Alla prossima! Ciao!